Buonasera e benvenuti in questo nuovo video, io sono Super ed oggi siamo qui per la prima volta su FIFA 23 Ragazzi sono Super del futuro, vi interrompo un secondo per dirvi che in questo video vedrete delle clip su console e alcune clip su PC Quando ho registrato da PC praticamente non potevo mettere la webcam Quindi ragazzi quando vedrete i video con la webcam vuol dire che sto giocando da console Quando vedrete i video senza webcam vuol dire che sono da PC Quindi detto questo vi lascio al video, buona visione Ok ragazzi, qui c'è tutta l'animazione, vediamo le nuove animazioni di FIFA Ok questa è la schermata, infatti in alto a sinistro vedete, EA Play prova Vabbè noi andiamo in Ultimate Team perché è questo quello che ci interessa Sì ma qui lo sappiamo, dai andiamo avanti Ok questo è il nuovo pacchetto Ok caca Così Ok caca Va bene Qui sta Sono pronto avanti Sì ok saltiamo, saltiamo sta scena Oh le ma... Mi dissocio assolutamente da questa maglia E noi ce ne andiamo con i Borussia In Liverpool Dai Borussia e Liverpool No no che imparo ora So giocare a FIFA dai Più o meno Non ci gioco da mesi però ci so giocare Ok Ok questi sono i momenti giusto Sì raga questi sono i momenti, la novità di questo Ultimate Team Cioè possiamo giocarci dei momenti e aprire pacchetti Andiamo in negozi oggetti Un pacchetto qua In anteprima Ok italiano Oh Toloi Bono Non ho credito, non ho nulla Santa Rosa FC Ma no Cambiamo immediatamente il nome Boom Nome cambiato Ci prendiamo sto pacchettino Bronzo Ti cavoli Non ce ne frega nulla Il pacchetto bronzo però Lo apriamo tanto per curiosità Tanto le animazioni Le abbiamo viste dei pacchetti No Quella coppa maledetta Pure Pure adesso c'è Che senza usare sta coppa Non se la caga nessuno Direi di fare i momenti Tanto non mi fa andare avanti Allora dobbiamo effettuare dei passaggi Aspetto a 10 passaggi raso tera Ah vabbè il contatore ce l'abbiamo in atta a destra Vai Si libera bene qui Boom Pure goal E pure goal Comunque abbiamo ottenuto una stellina Abbiamo fatto passaggi Ora facciamo tiri Vediamo i tiri Esordiente quindi Più si va avanti più ide ci sono Ci sta questa cosa dei momenti Perché anche ci dà le stelline per aprire pacchetti Quindi Che devo fare Effetto un tiro In porta Vabbè Easy Dai stamacca Tiro Devo segnare? Ah no così Basta che la parava Momento completato Ora è da capire se questi momenti verranno aggiornati Nel costo del tempo Ma credo di sì Con l'uscita di nuove season Oltre al pass Non subire goal Effetto a 3 passaggi raso tera Effetto un tiro in porta Ok 2 3 3 Easy Easy Momento completato Quell'agento Sipiamo pure questo Oh però è blu Che è sta carta? 67 però E che carta è? Un pacchetto a gente ci ha regalato Grazie FIFA Grazie che bello Non è che mi dava qualcosa Sempre sta carta Che è una nuova Ah è Sud America La Coppa Sud America Mi sa che è nuova Brasiliano Di Arsenal Gabriel Jesus Che buono Vabbè raga Abbiamo visto il nuovo FIFA Giocherò qualche partita Nel secondo canale Comunque Detto questo io vi saluto Vi ingazzo E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao